La RAI, radio televisione italiana, è lieta di presentare le ricette di Arturo e il Kiwi. Codi Popolo! Ragazzo, vai con la sigla! Pasta al corno, calamari, fritto misto, gusti rari, carbonari, matriciano. Oio, oio, lanci, meravigli! Pomodoro, pepperoni, frutta mista di stagione, crappia al pesto, tortellini, cioccolata e biscottini. Occhio al cibo, tipiciale, se lo mangi poi stai male. Se ha per grandi gatti, ci vi sono, ci vi ce lui! Sì, 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 sì! Aleo, aleo! Kiwi, 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 kiwi! Ai dolci fornelli Arturo, cuoco sicuro! Grazie! E a rovinargli la vita, lui, l'irresponsabile Kiwi! Kiwi! No, 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 Kiwi! Ehi, ma quel lettore MP3 è mio! Eh? Scusi? L'MP3 che stavi usando è mio, sgancia! Lo? Io? Eh? Vero, 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 vero confuso! Tu sei confuso dalla nascita, molla l'MP3! Eh, un momento, spero! Sono qua! Un momento! Non lo trovo! Non c'è sta! Me lo hai perso! Forse! Allora me lo ripaghi! Non c'ho i soldi! E che ne fai degli stipendi della TV? Mancia! Mancia! Sì, sì, mancia! Spendo tutto in mancia! Mammina mia, dammi la forza! Kiwi generoso! Più passa il tempo e più peggiori! Peggioro il meglio! Sgancia l'MP3! Trovato, trovato, trovato! No! Sarà non ascuso! Come no! Possiamo cominciare? Sì! Gentile pubblico e gentile privato! Oggi vi andiamo a presentare degli squisiti dolcini! Gioia di grandi e piccini! I muffin al cioccolato! I muffin sono simili a piccoli plan cake, di forma rotonda! Si possono preparare con molti ripieni diversi! Mirtilli, lamponi, prugne, banane, carote! A me piacciono la frutta secca! Alcune varietà sono anche salate! Dulce, dulce! Ingredienti per 12 muffin grandi, da 8 centimetri! 140 grammi farina bianca 00! 00! 140 grammi zucchero! Maleducatto! 50 grammi cacao amaro! Mezza bustina di lievito per dolci! Una bustina di vanillina! Un pizzico di sale! 80 grammi di gocce di cioccolato fondente! Due uova grandi! 100 millilitri di latte fresco! Vito! 90 grammi di burro fusò! Come il cervello del kiwi! Cervello mio! Lasciamo perdere! Red di difficoltà espressi in uccelletti kiwi! Due kiwi e mezzo! Pronti? Così, così! Pronti? Sì, sì, sì! In una terrina setacciare insieme gli ingredienti soliti! Farina, zucchero, cacao, lievito, vanillina e sale! Mescolare bene unendo anche le gocce di cioccolato! In un'altra terrina amalgamare gli ingredienti liquidi! Uova, latte e burro fusò! No, c'è vero mio! Bravo! Vedi che quando ti impegni... Kiwi impegnato! Serio, kiwi impegnato! Sì! Pegnato, kiwi! Ora unire il tutto mescolando velocemente! Non bisogna omogeneizzare troppo! No, uomo, inizio! Bastano una dozzina di giri di cucchiaio! Ecco, ecco! Per rossare negli stampini per muffin in burrati riempendo solo fino a metà! E passare in forno a 180 gradi per circa 20 minuti! Attento che tu... Miracolo, non ti sei bruciato! Facciamo finta di niente! Sorridi! Lo spettacolo deve continuare! Giusto, giusto! Aspettare qualche minuto prima di sfornare! Miam, 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 miam! E voilà! Una bontà! Che me riprestiremo... Dopo me lo rendi, eh! Certo, certo! Dillo slogan! Con sto piatto vai sicuro! Te lo dicono Kiwi e Arturo! Ehi!